Anche le mucche soffrono il caldo. Con la colonnina di mercurio sopra i 30 gradi i bovini stanno producendo meno latte. Per aiutarli nelle stalle sono entrate in funzione ventole e doccette. A spiegarlo col direttico moleco per le mucche sottolinea l'associazione il clima ideale fra i 22 e i 24 gradi. Oltre questo limite gli animali mangiano poco, bevono molto e producono meno latte. Per questo sono già scattate le contromisure anti-afa nelle stalle dove gli abbeveratoi lavorano a pieno ritmo perché ogni singolo animale è arrivato a bere con le alte temperature di questi giorni fino a 140 litri d'acqua al giorno contro i 70 dei periodi meno caldi. Entrati in funzione anche ventilatori e doccette refrigeranti per sopportare meglio la calura. I pasti vengono dati un po' per volta per aiutare le mucche a nutrirsi al meglio senza appesantirsi. Al calo delle produzioni di latte si aggiunge poi un aumento dei costi alla stalla per i maggiori consumi di acqua ed energia che gli allevatori devono sostenere. Il 2020 è stato fino adesso di oltre un grado superiore alla media storica classificandosi al quarto posto tra i più bollenti dal 1800 sulla base dell'analisi col diretti su dati ISAC-CNR. Registrato anche un 30 per cento in meno di precipitazioni, un problema non da poco con il clima torrido e la siccità infatti. Gli agricoltori preparano irrigazioni di soccorso per salvare le colture bruciate dalle alte temperature. Di conseguenza i maggiori laghi del nord che dissetano la pianura padana sono in affanno con il lago maggiore che, spiegala col diretti l'Ariana, è svuotato per l'83 per cento, il nostro lago di Como per il 75 per cento e quello di ISEO al 55 per cento.